Oggi la conversazione la facciamo per pochi amici intimi e questo permetterà anche un tipo di comunicazione più familiare perché l'argomento che stiamo toccando è il punto di arrivo dei sette incontri precedenti di tutti gli incontri che abbiamo fatto dove sono state dette cose più o meno conosciute, più o meno profonde bene, tutto il cammino che abbiamo fatto aveva come obiettivo la conversazione di questa mattina questo è il nucleo ed è il nucleo dei comandamenti noi siamo partiti constatando come l'uomo sia capace di prepotenza e abbiamo letto il cantico di Lamech ho ucciso un uomo per una mia scalfitura e ho ucciso un ragazzo per un mio livido poi abbiamo cominciato a entrare dentro nel problema dei comandamenti cercando di capire quali erano i valori di fondo le premesse, la base, perché il rapporto uomo-Dio e comandamenti avessero senso poi abbiamo fatto l'esegesi dei comandamenti e poi siamo passati a vederne l'ultima volta diciamo così le pecche, i vuoti le dimenticanze, le mancanze quest'oggi invece vedremo qualche cosa di più Gesù ha detto in passato vi fu detto ma io vi dico vediamo questo ma io vi dico non tanto con le parole materiali sue in modo diretto quanto piuttosto con le risultanze della sua predicazione e delle sue azioni e partiamo per questo motivo partiamo da un'affermazione di Paolo nella lettera ai Galati naturalmente noi leggiamo la colonna di destra poi se necessario sbirceremo qualche cosa a sinistra non vivo più io ma Cristo vive in me e questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me frase sentita tante volte però questa mattina vediamo di puntualizzare alcune cose la frase della linea A è il risultato finale il fondamento lo troviamo nella linea C e nella linea D le scelte morali non si fanno perché c'è l'obbligo morale noi non siamo kantiani ma per nessunissimo motivo per noi l'imperativo categorico non esiste la nostra scelta non è fatta perché tu devi nel cristianesimo questo tu devi non c'è ma noi facciamo la scelta per fede e quando si dice questa parola si dice un mondo che forse è inesplorato ma quando noi diciamo fede significa che abbiamo un legame fiduciale e affidato totalmente alla persona di Cristo questo legame fiduciale e affidato alla persona di Gesù nasce dal fatto che chi crede ha capito benissimo di essere amato da Dio nonostante le sue colpe nonostante i suoi limiti nonostante il pregresso debolezze fragilità e compagnia bella peccati compresi nonostante tutto questo la persona che crede per davvero sa di essere amata da Dio quindi la fede non è l'assenso a verità astratte quelle sono verità che si accettano perché c'è questo legame tra il singolo credente e Gesù Cristo e quindi nasce la fede nella trinità nella transustanziazione nell'infallibilità tutte cose difficili da accettare se non fossero fondate su questo rapporto dunque Paolo sintetizza così dice tu sei credente e sei credente perché ti senti amato da Dio linea C e D allora la tua vita diventa qualche cosa di diverso e cioè la tua vita diventa un vivere Lui un vivere come Lui perché la figura di questo uomo Dio ti affascina al punto tale da dire io gioco la mia esistenza sul suo stile sul suo modo di pensare di vedere di agire di giudicare perché la reputo alla fine vincente anche se apparentemente sembrerebbe di no perché Lui è stato sconfitto dalla morte in croce Paolo stesso però dirà sì gli uomini lo hanno bocciato però Dio lo ha promosso risuscitandolo ed è proprio dentro a questa logica che noi diciamo mi fido totalmente ed è una scelta vincente e perciò la morale che non significa riuscita morale perché noi dobbiamo tenere presente che siamo anche persone deboli ma la scelta morale di fondo nasce da questo meccanismo non è dunque un volontarismo ma è un fascino che si traduce in scelta e una scelta che si traduce in imitazione perché partiamo da Paolo proviamo a dare un'occhiatina a quella specie di schema che avete dalla linea 25 alla linea 30 nello scorrere del tempo noi collochiamo nel 30 dopo Cristo esattamente il 7 aprile la morte di Gesù e la sua risurrezione il 9 il testo più antico che noi possediamo lo troviamo dentro alla prima lettera ai Corinti sono pochi versetti però è un testo che risale al 36 dopo Cristo cioè all'epoca in cui Paolo si converte nel capitolo 15 della prima lettera ai Corinti versetti 3-5 troviamo quel famoso credo storico di tipo battesimale Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture fu sepolto e risorto il terzo giorno secondo le scritture apparve a Cefe quindi i dodici questo brano non è di Paolo Paolo stesso lo dice vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto e lo scrive bene quella è la datazione poi se noi proseguiamo sulla destra vediamo nella linea 27 un trattino fatto da due uguali prima del 50 quello è il primo viaggio di Paolo nel 50 noi abbiamo il consiglio di Gerusalemme subito dopo abbiamo il secondo viaggio di Paolo e prima del 60 abbiamo il terzo viaggio di Paolo esclusa la prima lettera ai tessalonicesi tutte le altre lettere sono state scritte nel terzo viaggio quando voi imparate questo farete un figurone perché ogni volta che vi chiedono quando è stata scritta che so io la lettera ai Romani voi potete dire sicuramente tra il 55 e il 60 non spingetevi oltre e la prima lettera ai Corinti fra il 55 e il 60 perché tutte le lettere tranne la prima ai tessalonicesi sono state scritte nel terzo viaggio il brano che noi abbiamo letto alla linea 18 è stato scritto nel terzo viaggio è stata scritta prima della lettera ai Romani perché la lettera ai Galati è una specie di bozza dalla quale poi Paolo sviluppando diversi temi comporrà la lettera ai Romani se voi notate il Vangelo di Marco lo trovate verso il 65 prima edizione del Vangelo di Marco quella edizione che finisce al capitolo 16 versetto 8 poi c'è stata l'aggiunta dei versetti dal 9 al 20 ma quella è un'aggiunta fatta verso l'anno 100 Vangelo di Marco viene pubblicato nel 65 quindi i testi di Paolo sono i più antichi dei Vangeli è vero che se noi andiamo a vedere la fonte Q cioè un testo che adesso si trova inserito nei Vangeli la fonte Q la troviamo verso gli anni 50 però il Vangelo in quanto tale come notate compare dopo gli scritti di Paolo 65 Marco ci meraviglia ma le cose stanno così verso l'85 poco prima dell'85 Matteo e immediatamente dopo Luca e Atti degli Apostoli Giovanni invece si colloca verso la fine del primo secolo non proprio nell'anno 100 qualcosa prima 98 97 99 mettete voi quello che vi pare mentre invece l'ultimo scritto del Nuovo Testamento è la seconda lettera di Pietro verso il 105 in quell'epoca si chiude il canone del Nuovo Testamento per questo motivo noi nella conversazione di oggi prima esploreremo Paolo perché Paolo rappresenta la prima ricaduta del messaggio di Gesù con Paolo noi vediamo come gli Apostoli hanno cominciato a tradurre fra virgolette a livello pastorale chiuse le virgolette il messaggio del Maestro mentre Marco Matteo Luca e Giovanni tentano di riportarci con buona riuscita allo stesso messaggio Paolo è un traduttore del messaggio di Gesù gli evangelisti invece cercano di essere dei megafoni dei portavoce di ciò che Gesù ha detto e ciò che Gesù ha fatto quindi le prospettive sono leggermente diverse però il dato cronologico ha il suo peso per cui noi prima esploriamo questo terzo viaggio alcuni iscritti non tutti e poi casomai vediamo cosa gli evangelisti ci riportano su ciò che Gesù ha detto in merito bene io potrei dire che la nostra conversazione è finita quando voi leggete la linea 32 letto la linea 32 io mi alzo vi saluto e vi do appuntamento per la terza domenica di ottobre del 2016 finita la conversazione adesso però cerchiamo di capire qualche cosa di più diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo in questa frase noi troviamo tutto Paolo ha conosciuto Cristo storicamente no il Gesù storico Paolo probabilmente l'avrà visto ma non ci ha dato peso non l'ha conosciuto mentre invece lui ha avuto due grandi esperienze che oggi i teologi chiamerebbero mistiche e quindi l'ha conosciuto sotto quel profilo e Paolo nella lettera ai Galati dirà io non ho ricevuto il Vangelo dal collegio apostolico in queste due esperienze io l'ho ricevuto direttamente da lui e siccome dice io potrei avere anche frainteso sono andato a Gerusalemme mi sono confrontato con i dodici dicendo il mio Vangelo e i dodici hanno detto sì è come il nostro dunque Paolo ha questo tipo di esperienza di Gesù diretta diretta gli abitanti di Corinto non hanno un'esperienza diretta di Gesù e allora Paolo dice guarda senza presunzione io cerco di fare della mia vita una specie di duplicato però riveduto e corretto sul mio carattere sulle mie conoscenze sulla mia cultura sulla mia indole di ciò che era Gesù Cristo voi guardate me guardando me avete almeno un tentativo di imitazione del maestro e perciò avete qualche cosa di concreto su cui posarvi per noi se vogliamo cercare di capire il problema il verbo chiave è quel mimetai imitazione la morale cristiana è questo imitazione di lui siccome i corinti lui non l'hanno conosciuto direttamente Paolo dice guardate me io tento di imitarlo in questi miei tentativi voi di riflesso potete capire qualche cosa di chi fosse Gesù e di come è possibile imitarlo dunque Paolo sarebbe la concretizzazione di questa imitazione di Cristo e perciò chiunque guardando Paolo compresi i suoi difetti però e quindi sapendoli ben distinguere guardando Paolo Cristo diventa in qualche maniera subappaltato ma comunque sperimentabile Paolo porta molto spesso questo concetto nella sua predicazione e cioè se l'imitazione di Cristo è fondamentale ma è anche fondamentale l'esperienza di lui per imitarlo Paolo si rifà alla vita di fede di ciascuno nella lettera gli efesini gli efesini sono turchi e hanno la caratteristica di essere turchi commercianti vedete vedete voi e quindi gente abituata alla vita dura ma anche a far valere le proprie ragioni con le buone e anche con le cattive e rivolgendosi a queste persone Paolo detta la lettera a un suo discepolo e il suo discepolo scrive così siamo a 38a scompaiano da voi ogni asprezza sdegno ira grida e maldicenze con ogni sorta di malignità siate invece benevoli la linea di ultima parola nel greco che si impara nel nostro liceo classico questa parola suona krestoi ci siete? con la pronuncia di allora suonava kristoi quindi quando Paolo dice gineze kristoi capite che c'è un gioco fonetico estremamente importante per ciò che sta per dire krestoi significa benevoli però però nella pronuncia paolina c'è un richiamo siate cristi siate invece benevoli siate invece cristi gli uni verso gli altri misericordiosi misericordiosi lettera e greco eu splak noi eu bene splak noi budellosi questo è il significato splak che ma però è la traduzione di rahamim ebraico e rahamim sono le viscere di misericordia che dio ha per noi e Paolo dice voi siate come dio dunque siate invece dei cristo gli uni verso gli altri misericordiosi come dio perdonandovi guardate il testo greco carizomenoi nessuno si commuove ovviamente carizzo deriva da caris grazia e quindi perdonandovi vuol dire non facendo giustizia ma facendo grazia cioè dando ciò che nessuno si merita il perdono è questo l'altro il perdono non lo merita tu glielo doni dono in greco si dice caris e quindi carizomenoi siate pieni di grazia verso di loro perdonandovi a vicenda lettera F quella parolina lì la troveremo adesso da adesso in avanti in tutti i brani che noi esamineremo lo troveremo sempre katos come non ve la pronuncio alla vera greca perché sarebbe un guaio verrebbe fuori katos e non è eufonico katos come Dio ha perdonato a voi in Cristo se noi ci fermiamo un momento comprendiamo allora che la morale non nasce da una elaborazione intellettuale ma nasce da un'esperienza Dio ti ha perdonato si ti sta bene si bene lo fai anche tu con gli altri quella è la misura siate invece dei Cristo gli uni verso gli altri misericordiosi come Dio offrendo gratuitamente carizomenois prodotto in italiano anche abbastanza bene perdonandovi a vicenda ma gratis perdono non viene comperato se non mi chiede scusa non lo perdono beh pensaci carizomenoi dando il dono dando grazie agendo gratuitamente a vicenda come e c'è l'esperienza del credente come Dio ti ha perdonato allo stesso modo fallo anche tu per questo motivo vi dicevo prima o noi facciamo esperienza di Cristo o se no la morale è una favola niente altro e rischiamo di dire come diceva Paolo proprio affrontando questi argomenti video video buona provoco e deteriora seguo vedo le cose belle positive le approvo poi faccio quel cavolo che voglio mentre invece ritornare spesso alla propria esperienza dà misura tono e motivazione per scegliere certi comportamenti morali che si addicono al credente per scegliere Grazie a tutti.